La mezza è morto l'imprenditore Tranquillo Paradiso. E' venuto a mancare all'età di 87 anni l'imprenditore nel settore automotive Tranquillo Paradiso. Nel lontano 1971 aprì un autosalone plurimarche che divenne col tempo noto in tutta la regione. Da qualche anno aveva ceduto la guida dalla concessionaria al figlio Ferruccio. Sui social il ricordo di quanti lo conoscevano. Tutti i dipendenti, si legge nel posto della concessionaria Lametina, della Paradiso Group, legati in maniera particolare alla figura del signor Tranquillo, si stringono intorno a Fernando Paradiso. I funerali sono stati celebrati nella cattedrale di La Mezza Terme. Alla famiglia di Tranquillo Paradiso giunga il cortoglio dell'ereditore e di tutta la redazione.